Giancarlo Deruda, o Deruda non lo so, ciao Giosuè, al giorno d'oggi più mi guardo attorno più noto che noi uomini stiamo perdendo mordente, tant'è che spesso mi capita di sentire dalle stesse donne che uomini non esistono più, secondo te quali sono i motivi? Mi sembra una vera e propria piaga dell'era contemporanea, PS complimenti per il tuo nuovo corso illuminante, grazie Giancarlo, ascolta, è importante approfittare di questa domanda per farti fare uno switch Giancarlo, se tu sei in un contesto in cui guardando gli altri ti accorgi che stanno perdendo mordente, in più dici noi uomini stiamo perdendo mordente, vuol dire che sei nel contesto sbagliato, cioè esci da questa cosa, io lo so che c'è questa roba dell'era contemporanea, come dici tu, la piaga, ed è vero, ok? Ma non è un motivo, questa non deve essere una scusa per non suggerire a te stesso di levarti da quel cazzo di ambiente, ok? Se tu sei circondato da persone che ovviamente dopo il mio corso è ovvio che adesso vedi tutti gli orori degli altri, anche perché immagino che tu stia parlando del corso Riattivare l'attrazione 2.0, dove per tre quarti di corso, ragazzi, io spiego i motivi che portano alla perdita di attrazione di una donna, perché? Perché è importante, visto che si chiama Riattiva l'attrazione, magari volete salvare una relazione, è necessario capire i motivi che hanno fatto perdere l'attrazione, cioè non c'è la sfiga, non c'è l'ex, non c'è i figli rossi immaginari che si sono rotti i pianeti, che si sono intersecati, ma non c'è quella roba lì, semplicemente perché voi avete, con i vostri comportamenti, fatto perdere l'attrazione e quindi è importante conoscere queste cose. Ripeto, tre quarti del corso vi spiegano gli errori che avete fatto e sono il motivo per cui vi trovate con una donna che si sta allontanando, che poi, come ho spiegato in altri corsi, adesso magari ho chiamato i miei ragazzi, insomma fatevi consigliare da loro, però quello è un corso molto importante e non vi mette nelle condizioni di fare ulteriori errori, perché qual è l'errore più grande che si può fare? Che se una donna si allontana, poi uno, un uomo, la maggior parte degli uomini, va nel panico, va nel panico perché? Piccola parentesi, perché non sa dov'è all'interno del processo di attrazione. Quest'ignoranza, passatemi il termine ignoranza, cioè non so esattamente dove sono, genera frustrazione, genera ansia, genera mistero nei confronti della donna, cioè come mai lei, adesso cosa sta pensando, quanti vanno su Google, come pensano le donne, è un grandissimo mistero, ma questo genera attrazione. Avete notato che più una donna si comporta così in modo altalenante, più attira la vostra attenzione? Quindi quel corso vi serve soprattutto per imparare a gestire voi stessi, quando una donna si comporta in un modo, perché in quel modo? Perché nella maggior parte dei casi, ragazzi, una donna non sta perdendo attrazione, perde un'attrazione dopo, ok? Dopo, quando, quando voi vi fate prendere dal panico, non sapete dove siete e così. Quindi ritornando alla tua domanda, Giancarlo, ripeto, facciamo questo switch. Se tu ti sei reso conto che adesso tu sei lì e dici, guarda, quello lì sta perdendo mordendo, quello lì non ha sfigato, quello lì porta al passeggino e lei dietro 20 metri a messaggiare con l'amante. L'ho soltanto accennato, ve l'ho appoggiata piano questa cosa qui. Però veramente si vede, io adesso vedo queste cose, sarò bannato, ma la donna che l'uomo dice lei ha fatto fatica, lei ha partorito e quindi io vado col... Quanti uomini adesso portano il passeggino e le donne non lo fanno? Ma cazzo, cioè una donna non si sente donna, non state facendo sentire donna una donna, ok? Una donna che adesso guarda questo video dice eh no, però lui è il mio uomo, mi deve sostenere, mi deve... Io ho fatto tutta la fatica del mondo. Sì, ma a livello inconscio, dopo, una donna non si sente donna perché non si sta occupando di una creatura che ha messo al mondo lei. Quindi quell'energia, quella voglia di occuparsi, quel caring, quel to care che una donna è portata ad avere proprio per natura personale voi uomini gliela state distruggendo, gliela state distruggendo perché credete alle cazzate che lei ovviamente vi mette sul piatto dicendo eh però non mi aiuti in casa, voi state aiutando tanto, ragazzi questo è un ban terribile di questo video però le persone più intelligenti spero capiscano i miei... le mie frecciatine comunque va bene, ritorniamo a Giancarlo tu Giancarlo, se adesso ti sei reso conto che gli uomini stanno perdendo mordente ed è vero, non è una piaga dell'era contemporanea semplicemente c'è molta ignoranza in questo campo adesso ma perché i tempi sono cambiati i tempi cambiano, la biologia non cambia ok ragazzi, adesso io mi ricordo cazzo quando ero ragazzetto non c'era il cellulare, superiori c'era il cellulare con la sim non ho parlato di queste cose proprio nel corso che inserivo la sim, mi prestavano il telefono ok, poi siamo passati al mitico 30310 ok, e poi cazzo, poi c'è arrivato il... i touch vari con whatsapp, le messaggistiche capite che in pochi anni, soprattutto la mia generazione ha visto un niente a un... cazzo, l'intelligenza artificiale è ovvio che siamo tutti confusi solo che essendo confusi non vuol dire però che non si possa risolvere questa cosa basta cominciare a capire come funziona l'attrazione tra uomo e donna e l'attrazione tra uomo e donna si basa soprattutto, uno, su delle conoscenze che vanno al contrario di quello che vi è stato spiegato ok, se guardate un film dopo aver visto il corso riettivo alla trazione voi spegnete, voi spegnete perché capite che tutta quella roba dei film d'amore la Disney e Hollywood che vi fa vedere dei film ma perché vendono quei film? perché è bello, è emozionante vedere che l'amore funziona in questo modo che basta fare questo, questo, questa mossa perché lei si emoziona e lei torni da voi con i fiori e voi se vi abbracciate sotto alla doccia e tutti sti cazzi ma ragazzi, ora, viviamo in un momento a parte il fatto che quella roba lì non ha mai funzionato ok, perché è vero cioè non ha mai funzionato quando è che funzionava? quando eravate all'elementare infatti adesso mi collego con la risposta che devo dare a Giancarlo ma se voi fate la vostra donna vi dice non ti amo più ho bisogno di pensare e voi l'aspettate sotto la pioggia con un mazzo di fiori e vi fate vedere che già soltanto adesso mi aggancio in questa cosa qua una volta era bello farle sorprese provate a pensarci ok conoscevate una ragazza era bello, no? che voi la capivate sapevate di lei la potevate sorprendere con, non lo so facendo una piccola ricerca su internet così adesso cazzo siete degli stalker è un problema perché non potete neanche più permettervi di fare una sorpresa perché lei si sente braccata ma perché si sente braccata ragazzi? perché sai esattamente che cosa state facendo se voi uscite con una donna Tinder Instagram oppure la conoscete tempo H24 che lei si è già informata dalle amiche dai conoscenti dai colleghi chi siete voi ha fatto una piccola ricerca su internet e sa di tutto quindi sicuramente farete la stessa cosa voi ma vedete com'è brutta questa roba qua quindi uno non si può più sorprendere secondo vivete nel mi informo prima e quindi non faccio azione e quindi mi sto comportando da donna è per quello che gli uomini perdono mordente capisci? questa è una delle grandi cause seconda causa è che gli uomini non si comportano più da uomini ok? infatti mi riallaccio proprio a questo discorso gli uomini non si comportano più da uomini uno perché non sanno come si fa e secondo perché pensano e qua c'è il collegamento diretto con la sindrome del bravo ragazzo che tu stesso citi in questa domanda no? dici tant'è che spesso mi capita di sentire dalle stesse donne che uomini non esistono più ti rendi conto che quella cosa lì va a rinforzare la credenza sbagliata che hai tu perché tu la prossima volta che cosa farai? correggerai il tuo il tuo modo di comportarti con le donne e quindi dirai allora le donne si lamentano che gli uomini non esistono più però tu non sai il motivo magari probabilmente hai ascoltato queste qua che si lamentano e basta ah gli uomini non esistono più intanto ne stanno parlando ok? se una donna non è presa da questa cosa se una donna non è emozionata da questa cosa se non si può lamentare se non ha un problema comunque e non ne parla semplicemente le donne parlano per risolvere i problemi gli uomini parlano gli uomini fanno azione per risolvere i problemi e se tu adesso Giancarlo mi dici la tua domanda è secondo te quali sono i motivi? capisci che c'è un problema alla base che tu vuoi risolvere semplicemente sapendo e parlandone con me ma invece di farmi questa domanda perché non mi chiedi qual è il modo in cui posso io Giancarlo Deruda o Deruda non essere tra quegli uomini che stanno perdendo mordente come faccio io a essere quell'uomo circondato da altri uomini che non perdono mordente cambia il tuo il contesto in cui sei Giancarlo ripeto se sei circondato da uomini che stanno perdendo mordente vuol dire che anche tu sei una di quelle persone e non è bello non è sano non è figo essere io penso che oggi ah ma probabilmente è la piaga dell'era moderna vaffanculo non è la piaga dell'era moderna la piaga dell'era moderna è la pigrizia grazie a tutti